Avete tre settimane di tempo per trovare i corpi di 11 soldati non identificabili. 11. Quanti sono stati i più cruenti campi di battaglia? Mamma, è per te. Una madre che ha perso un figlio in battaglia deciderà chi tra questi valorosi diverrà il simbolo dei nostri 650.000 morti. Non mi importa di essere la madre d'Italia, mi basterebbe essere la mamma di un figlio ancora vivo.